ciao a tutti ragazzacci o vi racconto un altro un altro delle mie esperienze di lavoro di questo di questo fantastico mondo del mio passato da camionista che magari fa comodo a qualcuno che fa più o meno quello che ho fatto io ai tempi e magari li fa li può servire no una sorta di tutorial un tutorial verbale dove racconto come io risolto se determinate situazioni come io ho lavorato su certi viaggi come si scaricano certi materiali come si caricano certi materiali c'ho delle testimonianze fotografiche qua e là perché quando capitava qualcosa c'ho appunto quelle testimonianze fotografiche che mi sono rimaste ho ritrovato nel tempo di quando magari segnalavo qualcosa all'azienda e rimandavo la foto e mi è rimasto le foto un po nel computer che poi sono parecchio metodico io salvavo tutto altre foto ho cambiato telefonini e sono andate perse non le trovo più ma a mano a mano che racconto e trovo qualche foto la metto così per no per rendersi un po conto di cosa si sta parlando allora qui in questo episodio diciamo vi volevo raccontare un po durante i miei anni che ho fatto il trasporto sardo capitava quando era il periodo di andare a scaricare la cosiddetta vinaccia un materiale che si chiamava vinaccia e praticamente cos'era era diciamo la lavorazione della spremitura delle uve che arrivava naturalmente dalla sardegna quando io ho lavorato 13 anni ho fatto quel lavoro lì che mi ha mi ha dato molto anche a livello diciamo di conti di conoscenza no del mondo del lavoro del mondo deve di trasportare i modi e metodi di trasporto mi ha dato molto tante soddisfazioni e tanta diciamo e tanta esperienza su un po su tutto il tipo un po su tutti i tipi di trasporto di di merci varie e qui parlava appunto di la minaccia parliamo della minaccia come come avveniva lo scarico non la minaccia allora arrivava dalla sardegna chiaramente quando era periodo delle spremiture delle uve quindi dopo la vendemmia pratica e si portava nelle varie distillerie che questa minaccia praticamente per quanto ne so io non sono non sono un tuttologo per quanto ne so io veniva usata per la di veniva fatto da del distillato veniva ci veniva fatta la tra la grappa per quanto ne so io ci veniva veniva ulteriormente lavorata no e ci veniva fatta la grappa allora quando arrivava questi rimorchi di questi rimorchi della minaccia andavano a prendere in porto si riconoscevano si riconoscevano subito perché in terra dove veniva parcheggiato rimorchi un porto in terra segnava tutto segnava tutto intorno a rimorchio c'erano tutti segni no che colava colava questa minaccia praticamente dove si fermava rimorchio lasciava la colatura di praticamente era la spremitura delle uve e c'era tutto tutto dentro i rami i grassi come si chiamano il viticcio no come si chiama tutto tutto il praticamente il grappolo dell'uva veniva spremuto e tutto quello rimane il viticcio com'è io i nomi ora non li so bene comunque tutto ciò che rimaneva nella spremitura di tutto proprio il grappolo tutto il grappolo quindi anche tutti questi rametti tutta questa i rametti della vite no vedete il grappolo veniva veniva caricato tutto nel rimorchio chiaramente stando lì parcheggiato faceva delle dei depositi sul pianale e questi depositi sul pianale colavano da giro giro le sponde non terra ora non è che facevano chissà quale lago in terra un comunque lasciavano un po se che si sentiva che dall'odore nota vicinare rimorchio lo sentivino in mezzo a rimorchi dove arrivava l'odore tipico della spremitura dell'uva erano chiaramente a me è sempre capitato di mi è sempre capitato di consegnarlo questa minaccia con i cassoni rimorchi cassonati no con la con la capannina sopra cortelone coperti cortelone con la capannina ma cassoni non centinati io ho sempre consigliato nei cassoni questa minaccia e niente si vedevano il rimorchio si sentiva l'odore e praticamente questo materiale veniva caricato questi cassoni e dentro il cassone questa minaccia così chiamata si legava si legava sattricava fra fra sé no praticamente formava alla fine formava prendeva la forma del cassone proprio il materiale quando te andavi aprire le sponde proprio prendeva la forma poi dipende da quanti giorni stava lì parcheggiato no perché il lavoro diciamo intermodale lavoro delle isole io ho fatto solo quello della sardegna rimorchio magari sta parcheggiato qualche giorno in porto in sardegna o magari viene imbarcato subito dipende un po dalle tempistiche no da comunque quando stando fermo lì questa minaccia prendeva la forma del cassone allora cosa succedeva per lo scarico per lo scarico e e per lo più per lo più erano cassoni con le sponde da un metro e venti e sponde da un metro e venti e quando si capitava al balestrato c'era da fare un c'era tanto lavoro raffa c'era tanta tanta mano d'opera praticamente io era qui c'ho la testimonianza la fotografia di un rimorchio particolare che gli feci la foto perché è evidentemente caricato male si vede nella foto perché probabilmente era un fine fine materiale ma ma l'autista magari che l'ha caricato non lo poteva sapere che era diciamo un fine fine merce era il termine dei carichi quindi cosa è successo ha cominciato a caricarlo da dietro invece di cominciare o si comincia a caricare da davanti un rimorchio che sarebbe la cosa più logica no si comincia a caricare dalla parte della gavina la cosa un po più logica io sempre fatto così ma magari per situazioni che non conosco che non posso criticare collega che non c'è bene per situazioni magari o di spazio non lo so che non conosco questo collega va cominciato a caricare di molto dalla coda dal fondo del rimorchio e questo rimorchio come si vede in foto evidentemente caricato male era finita la merce è caricato più o meno per metà per metà di morchio io me ne accorsi subito quando l'agganciai che era caricato era tutto il peso in fondo ovviamente da metà di morchio in fondo però dove andavo andava a scaricare a barberino valderza c'è una distilleria andava a scaricare a barberino valderza qui partendo vita livorno quindi io agganciai andai in consegna non era un problema se davanti era vuoto praticamente c'avevo una sponda due sponde vuote comunque in foto si vede era poi la carico la foto ora non mi ricordo comunque poi la carico mi sembra era metà rimorchi più o meno allora per lo scarico di queste merce per lo scarico di questa merce la minaccia che magari a qualcuno mi potrebbe anche capitare bisogna aprire le sponde completamente bisogna aprire praticamente le sponde non per lo scarico tradizionale derivartabile che le sganci da sotto no sganci da sotto sganci i paletti di mezzo piantone la sponda diciamo fa cerniera sul paletto superiore e si apre al libro no quando ribarti la sponda si apre al libro scarichi la merce che sia terra che sia sabbia sia ghiaia la minaccia non è così la minaccia bisogna aprire proprio le sponde sganciare i due paletti il paletto di mezza sponda e il paletto superiore le sponde da un metro e venti ci hanno i due serraggi il paletto di mezza sponda il paletto superiore vanno aperti tutti la sponda va aperta proprio ribaltata come quando si carica il pianale praticamente la sponda va ribaltata che va praticamente a coprire le ruote del camion i piantoni vanno tolti tutti quando si ribarta il cassone se sfortunatamente si sta usando un rimorchio balestrato le sponde non si possono lasciare lì perché quando poi si va a ribartare il pianale si spacca tutto si spacca le sponde si piegano le sponde perché le sponde toccano toccano per terra quando poi si va alza il cassone le sponda punta in terra e si spacca tutto si fa danni quindi questo magari fa utile a qualcuno parte oggi come oggi rimorchi sono quasi tutti con le sospensioni pneumatiche i topless no e in quel caso lì si tira sul rimorchio si alza le sospensioni fino a che ci rimane un bel margine tra la sponda aperta diciamo abbattente e il suolo ci rimane un bel margine a quel punto si evita di levare le sponde basta solo leva tutti i piantoni ma piantoni vanno tolti tutti ma malauguratamente è un balestrato come capitano a me più di un caso vanno torte le sponde proprio vanno torti i piantoni e le sponde le sponde si appoggiano dal muro quando poi si è finito vanno rimontate a quel punto vanno torte le sponde e piantoni perché la vinaccia viene giù e porta via tutto non è è legata fra sé no e se attrì si intrigano come se fosse una parrucca si intriga proprio e rimane diventa un po quasi un corpo unico prende la forma del cassone quando si ribalta il pianale questa vinaccia parte e viene giù con un sembra un con la forma del pianale la forma delle sponde proprio viene giù come un blocco poi quando tocca il suolo si fa no si 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 riallenta però se non si togliesse tutto non ce la fa scende giù rimarrebbe appoggiata su piantoni si rischia di spacca tutto si rischia di di far venire giù il pianale di far venire giù il cassone da su dai supporti diventa veramente un pericoloso lo scarico della vinaccia avviene così e io non l'ho mai fatto con centinati vendico centinati non lo so comunque i piantoni in caso che si uno lo faccia con centinato ribattabile piantoni vanno comunque tutti rimossi e portati tutti da una parte eventualmente legati e le sponde comunque vanno abbattute vanno aperte come quando si carica praticamente vanno abbattute che vanno a coprire le ruote aperte normalmente verso il basso questo va fatto questo era lo scarico della minaccia e molta attenzione perché quando si va a fare certe operazioni ci va a rimuovere proprio le sponde nel caso ce ne fosse bisogno bisogna stare molto attenti perché lì è facile farsi anche male poi è un non è niente di che è un è un viaggio come ce ne sono altri si fa si fa non è che uno è un campione del mondo perché ha scariato la minaccia no io l'ho fatto è capitato in più di un'occasione ora avevo solo questa foto che ho messo per farvi vedere che com'è questa minaccia e cosa fa nel rimorchio no che si si lega fra sé si intriga tutta e non scende diciamo sfusa come altri materiali e appunto per la sua conformità che si crea nel cassone va rimosso tutto i piantoni le sponde le sponde se rimane un bel margine al suolo si possono anche lasciar su altrimenti vanno rimosso anche le sponde per ribaltare diciamo in sicurezza senza rischio di far danni per il resto niente questo era questo volevo dire che magari a qualcuno può far comodo no che magari può capitare che facciano un viaggio del genere quindi questo era diciamo succo di questo intervento siccome è un tipo di materiale che viene usato nelle distillerie appunto che al mio sapere che ci fanno le grappe quindi è un materiale che verrà sempre consegnato e magari a qualcuno li può capitare qualcuno che ha iniziato magari con la sardegna e questo è il sistema dello scarico c'è un po di manovalanza a secondo che rimorchi si usa come ho raccontato c'è un po di di manovalanza c'è da durare un po di fatia però poi quando scende scende il cassone rimane pulito cosa è cosa c'è diciamo della convenienza è una volta che è sceso il cassone rimane pulito non c'è da da fa più di tanto c'è da rimontare piantoni e le sponde che che non è poco comunque ma questo è su questo vi saluto ragazzi al prossimo racconto che magari farò vedere il prossimo racconto eventualmente parlerò di big bag di questi sacconi che erano alti come la scena come le centina l'altezza della centina prossimo racconto racconterò di questo qui e di come mi sono comportato io nel trasportare questo tipo di questi tipi di carichi ciao ragazzi ciao alla prossima vi abbraccio forte ciao 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 ciao